A che c***o servono? Non si può stare, ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale Quindi, basta pa' casa Non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo Alla playstation, andate a giocare la playstation a casa, non si può stare qua, andiamo Andiamo, non potete stare qui, a casa Non mi deve guardare questo, deve rispettare, c'è un decreto, siccome io sono il sindaco di questa città In questa città il decreto lo faccio rispettare io Quindi, se ne deve andare a casa adesso, non voglio rispettare Mi dispiace, parlatevi a te, non si può stare, è desciato Ma città, mi arriva una serenalazione, non si può stare, ci ammaliamo, è un'emergenza nazionale Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada Accompagnato da un cane visibilmente stremato L'ho fermato e gli ho detto, guarda che questo non è un film Tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passava a casa Grazie mille Grazie mille